Gli ex tirocinanti del Parco delle Serre avevano già chiesto a vuoto nei giorni scorsi un incontro al Presidente Oliverio, autoconvocando la Regione sotto il vessillo del segretario regionale della FISA SCAT CISL Calabria, per ribadire la possibilità di proseguire le attività svolte dagli ex tirocinanti attraverso un progetto di lavoro che veda l'utilizzo delle risorse e dei fondi sociali europei in un'ottica di tutela e di sviluppo del patrimonio paeseggistico del Parco delle Serre, senza buttare nel nulla 700 mila euro, ma oltre al danno anche la beffa. Prescindere che non si pagano da cinque mesi, il contratto è scaduto diciamo metà novembre e ci troviamo qui a manifestare in quanto non solo non sono stati pagati per il lavoro svolto, che poi di tirocinio non ha niente a che vedere perché comunque i ragazzi hanno lavorato. L'obiettivo del sit-in di protesta è la prosecuzione di un progetto che potrebbe avere un più ampio assetto di attività ed inserirsi negli obiettivi specifici del piano regionale dello sviluppo turistico sostenibile per realizzare in maniera compiuta una politica del paesaggio in Calabria con la messa in atto di tutte le azioni atti a creare il lavoro per contrastare la povertà e l'emarginazione. Faccio presente che all'interno del parco ricadono 26 comuni, quindi Serra San Bruno, Mongia, tutti quei comuni che ricadono all'interno del parco che sono purtroppo abbandonati a se stessi, mentre invece noi pensiamo che attraverso un ragionamento, un progetto si possa non solo autosostenere l'ente parco ma comunque utilizzando le risorse dei fondi comunitari del PORU 2014-2020 si possono fare dei progetti seri. Gabriella Passeriello per l'AC News 24 Grazie a tutti. Grazie a tutti.